Ciao a tutti ragazzi, io sono Andrea e benvenuti in questo nuovo video, prima di cominciare come sempre come al solito vi ricordo di seguirmi su Instagram al link trovato qui sotto in descrizione. Dunque, è appena uscito il primo teaser trailer della seconda stagione di The Boys, una delle serie tv che più mi sono piaciute l'anno scorso. Una serie tv violenta, tratta da un fumetto che purtroppo non ho mai avuto occasione di recuperare, ma che sicuramente cercherò di fare nel corso dei prossimi mesi, anche se i volumi dei panini costano veramente uno sproposito. Quindi direi bando e convenevoli, iniziamo subito con la reaction e poi commentiamo. Il trailer dura 1 minuto e 56. Quindi, via. Busted. Banda est Banda è subito Banda è ha lanciato un bambino dal tè mamma che bellezza stavo uscendo da una balena morta questo thriller è fantastico thriller ragazzi veramente fantastico poi tutte le morti a tempo di musica si prospetta essere bella carica e splatterosa come la precedente ho visto Bacher uscire da quella che penso sia una balena morta o qualche tipo di animale e patriota ha almeno ucciso 10 persone solamente in questo trailer tra cui un bambino che viene preso e lanciato giù dal tetto non so se poi muoie effettivamente ma comunque si vede quel mezzo secondo di lui che lo spinge di sotto non vedo veramente l'ora perché come ho detto prima di fare la reaction la prima stagione mi è piaciuta tantissimo e credo sia anche uno dei prodotti più originali per quanto possa essere originale una trasposizione da un fumetto attualmente sul mercato che ci permette di dare un altro sguardo ai supereroi che non sono così bravi buoni e belli come ce li hanno sempre fatti vedere su altri lead come potrebbe essere la Marvel o la DC ragazzi fatemi sapere cosa pensate voi di questo trailer con un commentino qui sotto e come sempre come al solito ci vediamo al prossimo video ciao